Ciao a tutti ragazzi, oggi è uscito Dead Effect 2 e ovviamente non poteva mancare la mia collezione quindi direi subito di fare una bella partitozza così vediamo subito il nostro videogioco Ovviamente io già avevo fatto una partita quindi magari con chi ha inamo quella, tanto per, visto che ci siamo Questa è il gagliardo, eh? Ricorda niente? Figuri? A me ricorda un sacco di cose Jane, ti senti meglio ora? Vabbè, tanto per questo momento dobbiamo... non abbiamo punti abilità per se non puoi sbloccare nulla quindi lascerei perdere Bisogna prendermi i soldini però ovviamente... Non possiamo usare niente, aspetta, parliamo Stantiamo la missione Almeno facciamo una cosettina un pochettino più veloce Losi, anche sui, si sono riusciti sul cibo Abbiamo un eserro di alberto E' un eserro di alberto C'è un eserro di alberto Ma dov'è vi fare in un eserro di alberto C'è un eserro di alberto C'è un eserro di alberto Vita mode Dimenti, eh? Un po' dei cartoni che non fanno mai male Ancora, eh? Ecco che il cartone... Beh Guarda, scudacchia pure il pantocchino E' troppo pantone, eh? Ancora un pezzo leggendario? E' lì! Un po' delle cartucce Ovviamente, ragazzi, sì, abbiamo soltanto la nostra Magnum Ma non abbiamo altre armi? Ok, abbiamo trovato una ID card Boh, non so l'utilità Ovviamente la missione nuova non l'avevamo ancora fatta C'è l'ascensione più forte Cartucce, le prendiamo Questa non si apre, se abbiamo un intersecchio Questa non si apre Un'altra parte Questa non è una cosa Che non è la mia Questa è l'altra parte che scherzo? non fai scherzi non so come ho schivato però ho schivato non chiedete non vi sarà detto dai io questi cazzo oh bello cazzo forse andrò a qualche arma un po' meglio perchè sinceramente a me la pistola non dispiace eh pardon questo è anche quello che ci vuole un'ora per ammazzarlo poi vomita pure che cazzo stai a winning the po- le cose, killing plus visto boomer volendo spazewalker la notte su un cazzo dovrebbe un'arma spazor tipi ampi non 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 Dov'ho aspettato Questa è un'annato il foso, va Dura parecchio poi sto cazzo di acido schifoso Ecco, l'annato Questa è un'annato Questa è un'annato Questa è un'annato Questa è un'annato C'è un'annato No, ci stanno pure i cagnolini Aspetta, fammi fare un giretto qui perché se no Se c'è qualche arma è nulla più Io sono proprio un cialtrone Ok Vabbè, qui abbiamo preso tutto Andiamo all'altra stanza Questa è un'annato Vabbè, qui abbiamo preso il giretto qui L'amore Questa è pronunciare Un'attività 44, uno schifo Qui non potremo andare avanti, quindi questa è l'uscita, andiamo avanti, siamo forse 5 secondi, siamo già stanchi, senza uzzeria Ok, abbiamo un po' di soldi, ma non potremo andare avanti, qui c'è un pezzo qualcosa C'è un po' di soldi C'è un po' di soldi Buongiorno E chi è? C'è un po' di soldi E chi è? E chi è? E il cicciottino di bellissima Aspetta, questo posto non è sicuro, dobbiamo lasciare! Minikin, no! No scienza! No più! Ehi, sono Jane. Non mi piace anche la scienza, ma sono venuti per noi. Dobbiamo cercare la ruota. No scienza! Minikin dolce! La pelle è la fortuna per lasciare il corpo. Come, dobbiamo andare. Minikin... Minikin crede! Minikin va! Ma Minikin dolce! ... 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